special one stagione 2011 2012 ben arrivati cari amici e partiamo subito dalle novità di questa stagione nuova di special one e come vedete c'è uno studio che è completamente nuovo ma non sarà l'unica novità intanto partiamo con la puntata di oggi e c'è già una band seduta sul nostro divano e sono i supernova ciao ragazzi ciao mi hanno già microfonato vedo perfetto allora come va tutto a posto anche io tutto bene intanto vi vedo giovanissimi per cui media d'età 22 23 anni si ok e che ben siete supernova mi vengono vagamente in mente un po gli oasis no in realtà non c'entrano siamo una band nuova siamo una band che a ogni concerto cerca di dare il massimo quasi come se fosse l'ultimo quindi da lì la supernova che può scoppiare da un momento all'altro siamo noi cosa ci presentate oggi ragazzi presentiamo un pezzo dal titolo tutto per un addio è un pezzo nostro un bel rock italiano secondo noi un bel rock italiano si lasciamolo dire agli amici a casa che è un bel rock italiano perché immagino che a voi piaccia perché se no no comunque siamo tutti curiosi di sentirlo per cui guadagnate il palco il supernova con tutto per un addio e intanto vi ricordo che special one è anche talent university per cui se avete un talento da esprimere artistico piuttosto che autoriale provate a scriverci special one e chiocciola 2f punto it intanto andiamo ascoltare il supernova con tutto per un addio e poi faremo due chiacchiere con loro e poi faremo due chiacchiere con loro è come dire che il tempo è inutile che non guarisce per niente e va dato via è una metafora detta solo per pazzia da chi la vita la butta e l'ha buttata via sapere i vizi, le droghe, le malattie capire che il denaro è utile a chi di utile non dà niente per niente non è mica scena, frega tra la gente è tutto per un addio è tutto per un addio è come la mia terra ora non è più mia colpa di una vita tutta frenesia e guardo te che sei l'unica cosa ora che grande sono l'ha portato via come l'onda che ti bagna e poi va via come chi fa il danno e poi è colpa tua come una frase detta al muro non dirla a lei perché la paura c'è hanno strappato i sogni e i ricordi di noi chi ne ha presi con che diritto poi un orologio senza i suoi battiti che ora fa il nostro suono che dava libertà i nostri volti sopra l'ingenuità di chi la suona e gli anni che passano ma siamo qua tutto per un addio tutto per un addio tutto per un addio tutto per un addio Hanno strappato i sogni e i ricordi di noi Chi ne ha presi con che diritto poi Un orologio senza i suoi battiti Che ora fa? Il nostro suono che dava libertà I nostri volti sopra l'ingenuità Di chi la suona e gli anni che passano Ma siamo qua Ma siamo qua Tutto per un addio Ma siamo qua Tutto per un addio Ma siamo qua Tutto per un addio Supernova Mark, Peco, Matt e Chico Ragazzi venite pure qui al Max Devil Cafe Questa è un'altra delle novità di questa stagione di Special One Facciamo accomodare le band, tutto a posto? Grazie, sì, perfetto Allora, siete presenti voi sul web con la vostra musica? Sì, abbiamo la nostra pagina di Facebook Siamo band Supernova Per chi volesse comunque sapere qualcosa di più su di noi Tra l'altro non ho una cosa, scusa Supernova è scritto Sì, è una cosa che abbiamo voluto fare un po' ai latini No, no, va bene Giusto per dare un'informazione giusta a chi ci sta seguendo Perché poi uno scrive Supernova No, no, Supernova Supernova Ok, con la A-E finale Sì, per fare un po' gli eccentrici Ragazzi, in bocca al lupo per i vostri progetti Quindi, prossimi concerti? No, di cose nel prossimo futuro Qua in futuro subito non ne abbiamo Però adesso facciamo un gran lavoro di sala prove E poi verso dicembre, verso l'inverno saremo prontissimi Allora, Supernova a Special One E ovviamente se anche voi avete un talento da esprimere Intanto li salutiamo in bocca al lupo ragazzi Grazie Se avete un talento da esprimere sul palco O anche dietro al palco Noi cerchiamo proprio voi SpecialOne.2f.it Contattateci e la redazione vi ricontatterà Per capire se avete un talento da esprimere E per covare magari e realizzare uno dei sogni che state covando Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta Intanto visitate il sito SpecialOneTV.it Ciao a tutti da Pietro